Avignon e Avignone in italiano. Avignon in francese. Da nuovo po' siamo ad Avignone. Fa freddo. Ci vediamo dall'HM. La strada principale dopo il club. Stasera invito la commessa al negozio di Steve Valenti. Come si chiama? Monique. Non, 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 non. Ma, 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 ma. Le cittadine. Ma, 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 ma ma, 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 ma ma. Questa è, che deve succeder un po' adesso che cosa succedendo? Chosa? Che vuole tanto adesso. D'oro pese? Grazie a tutti. 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 All right. Foto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.